Per una settimana corse dei treni modificate per lavori sulla ferrovia a Mestre e a Venezia, le operazioni dalla mezzanotte odierna fino all'ore 6 di domenica 21 maggio. Alla sezione di Venezia Santa Lucia previste opere di manutenzione e rinnovo degli impianti. In località Catene, nel tratto del cavalca ferrovia che collega Chirignago a Marghera, verrà realizzata invece la nuova passerella ciclopedonale per un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro. Settimana di lavori dunque sulla rete ferroviaria, per la quale saranno possibili eventuali soppressioni, con modifiche d'orario e limitazioni di percorso. Tutti i regionali diretti a Venezia Santa Lucia si fermeranno a Mestre, ad eccezione dei regionali veloci, dai per Verona e dai per Bologna, che sono garantiti. Oltre a questi, vengono messi a disposizione altri tre treni ogni ora, facenti alla spola tra Venezia e Mestre, per un totale di 5 treni all'ora tra le due stazioni. Previsto inoltre servizio aggiuntivo straordinario di assistenza ai viaggiatori a ridotta mobilità. Maggiori informazioni disponibili sui siti web delle imprese ferroviarie.